Molly vuol fare giocare per forza la Maggie incitandola a buttarsi giù dal letto cosa che la Maggie non ci pensa nemmeno a fare ora va a riprendere la palla poi la riporta su Molly piglala vai ora la butta giù dal letto piglala è tutto il letto Molly vai è sternoso Sì, sì. La Maggie guarda, è un gioco molto più grande di lei e le può fregare di meno. Pigliala, bolli, pigliala. Molli non giocava così da un anno e mezzo, io credo. Dopo la maternità è ritornata cucciola come prima. No, 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 no. Va, può bastare. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no.